Inizia il Liverpool-Celsi, la sfida tutta inglese, quadri Foglio Stadium, il Liverpool in cerca di punti, il Chelsea che vuole risalire in classifica dopo la vittoria dello Schalke. Mentre in campo Fabrizio Maricic. Mentre in campo Fabrizio Maricic. bravi, bravissimi così siete in cinque è successo qualcosa di strano in questa squadra conisci, tirata tu sta punizione ma Marco è rimasto bianco alla fine Sandro non passare, entra proprio Marco tu sei giolli alla fine giochi con tutte e due squadre occhio, ferma, ferma vai, vai, vai aspetta tu dico una, sono le pagine la massa c'è pure la mano qui c'è pure la mano mi sa che ha preso la mano quello che c'è io la rovo Luca ripicchiate un cinese di assicurazione Luca riprenditi perché non c'è nè assicurazione quindi tranquillo, non c'è bisogno di fare scena grazie, ti ringrazio grazie ti ringrazio è giolli Marco, gioca pure con loro è bianco, è tipo la pallavolo guarda, brava brava, brava la seconda di che a casa guarda, stai dietro dai, guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda dai gol, giuriamoci subito la passione è cominciata dai sei grazioso il Natale ti ha fatto bene no, glielo ho detto a Calabria glielo ho detto Calabria, sei grazioso ok, allora va bene perché l'ha messo davanti la videocamera non si vedeva niente è un gente disturbatore 1-0 per il Chelsea stranamente fa il segno Sandro è richiusato che tra un tiro sbagliato e l'altro sta arrivando a quota 10 in classifica Sandro hai fatto i 10 gol per sbaglio così molto per sbaglio sottolineiamo per sbaglio Sandro scappa Sandro stai fermo bravo che stop di marco sempre, sempre dai, dai, dai gira, più gira sento ok, ok, ok torna dietro, dai viva, viva, viva inca picciola messi bene dietro ungi ça butala brava Sandro è l'ultimo tu per spara sei più attento quando è così la palla e vai la metto dentro rispondo al solito bonico ci prova Federico fuori di poco fuori di poco è solo fuori di poco dai si al buco ok, da che dimostra subito vicino, ora che mi rimane ultima Manu, occhio che sei tu qualcuno pesca bravo, bravo occhio, giraci la schienella basta 10 secondi andro sempre ubriaco cambio? si si grande stop di mattina Marco ogni tanto provalo il tiro giusto amica dica Marco ogni tanto provalo il tiro giusto più dietro non le mani poni, c'è spulsione buono Antonio siete due recuperiamo gol di migliaccio che sbaglia lo stop sbaglia lo stop riesce tanto tanto occhio ve lo fa apposta per perdere tempo vero ma com'è se non si prende il tempo tranquillo un minuto come allenatore Leotta decide lui non lo fate incazzare buona partita dai niente niente la X non funziona buona partita 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 perciò inserire non ci perdiamo hai visto l'occhio che ci è il tempo cazzo che c'è? su dai 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 occhio giriamoci, giriamoci a questa soffì a questa a questa Dani ok dai 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 oh no qualche scapponi che è guardateli guarda siete due allora vai Giorgia vai guarda mano vai Giorgia l'arbitro no hai sentito il rumore torna Matti vai Sandra quasi 10 la prossima cambio la voce Sandro si si dai subito sul secondo chi era il terzo io io ora fammi finire l'azione e cambio dai che sono il quattro un po' vedi Luca sei il terzo no no non esiste il terzo ci sono due quarti ci sono due quarti manca l'altezza c'è no vai 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 guarda no se mi è richiuso la partita è in corso ma vede la partita bravo sono stanco non parlava non le chiedo è così personale a livello globale della partita ma pensa che ma speriamo finalmente di un incompleto incompleto o al completo incompleto ma come ha fatto una foto del Gatorade anche Liverpool diciamo che è quasi al completo che penalizza molto il rientro del signore Fabrizio Marusic leggi bene dietro la maglietta con un con una R2S però non è in panchina con una maglia completamente diversa dai suoi compagni si ricorda il vecchio stasera il vecchio è da libero lui Michele GTS Alessandra di chi non ha fatto una cosa cretina di chi non ha fatto una cosa cretina? di chi non ha fatto una cosa cretina? grande partita di Leotta intanto bastardo quanto l'hai fatto? per sbaglio più di 10 l'hai fatto ma è 10 no secondo me si 11 forse 12 guarda Dani guarda Dani guarda Dani guarda Dani 3-3 3-3 Robb è tuo Matti svegliati guardalo 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 Anto chiamati questa è la chiamata comunque Anto Grande Leotta, super Rusic, super Leotta, che sembra Franchi Lampard. Franchi Lampard sono io, invece. Non volevo dire John Terry, ovviamente, non so perché è uscito Franchi Lampard. Leotta, provate ad andarsene, ma grande, guardi sono in fase difensiva. Un muro oggi. Sembra la garra da lì per poi. Ok, parti, 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 parti. Subito dietro, subito dietro. Vuoi cambiare tu? Perché già è passato il tempo del cambio? Da un pezzo. No, ancora no. Mi sono ripreso. Non è passato il tempo. Al decimo sentrato? Sì. Io sono corretto con le mie compagnie, capisci? Che lo sentono nel video. Sì, allora vi comunico che lo faccio entrare sempre almeno un minuto prima. Mamma mia! Bravo! Non urlare, non urlare. Va bene, tanto. Dai, 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 tranquillo, dai, dai. Anche... Dai, dai, dai. Bravo! Palla dietro. Drago, che si è comprato le stesse scarpe di faraone. Palla dietro. Tutte le scarpe arancioni le avete? Eh, la scuola... Gli oranze. Gussi di merda che avevi. Oh. Bravo, ma... Dei gli oranze, dei blues. Sì, è stato il blu. 3, 1, 3, 1, 3, 1. Cubito, ritorniamo, temporezza, dai. Quasi fatta. Prova, prova! Ma perché se ne passi più in porta? Tranquillo, il campo è finito, tranquillo. Matti, non fare sti allunghi. La facciamo uscire Mattia, che è stanchissimo, ragazzi. Sì, sì. Poi apriamo l'altro campo a Matti. Ok, allora. Va bene, attacco, attacco! Bravo! Bravo! Occhio dietro, non va! Occhio dietro, occhio dietro! Occhio dietro! E Marco... Ok, prendiamo il campo. Prova! Bravo! Mendola, ci arriva Giannova. Prova! Puoi inviare il rotondo. Saltato secco da Migliaccio, traversa piena. Ancora Mendola, non è finita, Drago. Centro! Ottola, dietro! Bravo! Calcio d'angolo. Mattia, finisce l'azione e cambi! Ah, ci vuole! Poni, ci dà consigli? Dai, dai! Tra l'altro è la sua esperienza, se ne va! Vai, Rosec! Matti, Matti! Mi stai cimando con la sua volta! Se vuoi ti apri il campo 2. Puoi cambiare? Il quarto è chi ha poi? È il quinto, Marco. Il mitt è il quinto, Marco. Tu sei quattro. No, io il quinto. No, Marco l'ultimo. Marco, tu sei... Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, tranquilli, parliamone, ragazzi. Con calma. Tranquillo, stai entrando con un minuto in ritardo, quindi ti fai quattro minuti. Protondo! Non trova di poco lo specchio della porta. Tu eri il quarto, ma non avevi detto che eri il quinto. Sandro, attra. Quello è libero, quello è libero! A sinistra! Tira, tira! Brava! Sì, Robbi! Uh, ancora traversa del Chelsea! Farà non è che dal falo laterale non tira. Tira, tira! Ma cosa vuoi? Ma sei zitto? Ora ritornano di più. Ritogliano, dai! Sì, Sandro, Sandro, Sandro! Ritogliano, dai! Guarda sì, è tua, è tua! Guarda così, è! Occhio tuo è sullo stesso pallone! Guarda sia finita! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Se ne importa il panice di fuori dai pali, rischiava su questa puntata. Questa è... Bravo! Questa torta! Tocca, tocca! Guarda, guarda, è nostra! Guarda, dietro, bravo! Guarda, dietro dovete stare, dovete stare più pieni! Un'uno, dai! Bravo! Bravo, Lu! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Siamo lì! Sì! 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 Dai, dai, dai! Sì! 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 Bravo Ale! Occhio! Tira! Sì! Capiteia! Bravo! Coprite! Attenzione! Sì! 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 3 a 1! 3 a 1! Del Chelsea sfrutta un passaggio sbagliato di Ardizione al cambio un minuto e mezzo! Sei tu il prossimo calcio! Sì! Fate uscire sempre a lui! Fate uscire sempre a lui! Sì! Roberto non è ancora uscito! Mendola forse! No! Mendola è uscito dopo! Mendola è uscito Roberto perché è entrato prima di Sandro! O no! Tu sei partito fuori con me, sei entrato a posto di Roberto poco fa! Sì! Poi Roberto è entrato a posto di Sandro! E quindi a posto di Roberto! Di Roberto, sì! Bravo! 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 Bravo, говорят! Bravo! Bravo Sam! si può dire anche fuori lo puoi dire fuori lo puoi dire dai giriamoci 5 secondi poi cambiamo non ci ha chiamato alla prossima è cambio siamo due vuoi giocare però attento dietro Sandro a destra buona tipo questo buona Sandro tira piano era in porta ottava vita vai siete tre siete tre contro due che egoista veloce veloce Sandro entra Sandro dai torniamo ha fatto uscire a Sandro poi l'ha fatto da così guarda lo scarico facciamoci quattro passaggi rimani rimani Giorgia tieni la palla e aspetta un altro che ti viene lo scarico stai apposto ah stai apposto stai apposto comunque tu hai che qui entrare ora sei uscito a fine primo tempo io non ve l'ho detto cambio forse ha visto no no che l'ho detto io sono incogionito vabbè ah ma lo spieghi che stanno giocando con questa palla perché prima di ora non ho chiesto poi se mi fa rimbolge chi diceva di più questo quanto è Sandro 3 a 1 per il Chelsea 3 a 1 si e Sandro stranamente ha fatto un gol naturalmente ha capito non spara ci segna 3 a 2 porta fortuna Punish Ciccio Giacalone al nostro fianco tutto il torneo ha fatto un gol d'autore vedi risaltò a 2 l'ha messa ad esterno punto esterno posso vantare un po' ma però due in porta nella mia polta e due nel mio non è vero non è vero non è vero scopriamo l'equip Luca ma non lo seguite ma non lo seguite mi sono fregato 50 euro mi scambito 50 euro dalla cassettina ho preso 45 sani e 5 al moneta tanto è la stessa cassa giusto ma perché hanno voluto Giacomo in questo pallone loro gli piaceva di più questo esteticamente si si soprattutto esteticamente c'era quello umbro nuovo hanno visto questo dice no questo ci ha colpito effettivamente colpisce molto ancora ma che ti incampi ma che ti incampi uno solo non butta lì te la prendi la faccia tu hai su picciotto tutte le facciole in campo ma ma mi a prendere la bozziglietta di che fura la tua non lo so ciccio ciccio per favore io fai un massaggio a San Diego quanto manca un minuto a fine vai a girare sali tu mano e tu vieni a scuola ancora Liverpool tre pari porta fortuna in Liverpool Giacalone si raventa la ponisce tre pari pochi secondi al termine del primo tempo riacciuffa la partita una squadra di ma ti dicevo che Marco si abbina bene al completino si se le fai spezzato è libero le vecchiette ma nel basket che gioca con la maglietta diversa si e anche a pallavolo e come Marco l'hai mettata la pallavolo non so se è l'alzatore che gioca con la maglietta diversa c'è uno che di solito è il più basso quello che riceve quello che riceve è stato un po' al centro del campo finisce il primo tempo tre a tre